cosa stai facendo a papà stai facendo la legatura stai facendo la legatura ma sulla martina bolo ma questa canada pesca di chi è mia personale si gira piano piano brava papà costa il filo brava gira piano 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 gira 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 piano piano così non hai finito il filo papa aspetta 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 mantieni diretti da domani tira 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 ancora di vita vita non viene tirato a prova non viene tirato ecco qua aspetta prova che ti metto il cappio non viene tirato perché il cappio ecco qua aspetta accosta il filo gira gira mira papà sei concentrata papà bravissima prova accosta il filo a costa è così gira piano 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 ecco qua tira questa papà tira questo cappio tira 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 ascia lascia che lasciamo con quell'altra mano ecco qua ecco qua accosta un po il filo così a costa a costa no questo lascia lo stare a costa tutta la legatura così vicina accosta tutto così brava a costa a costa brava bravissima bravissima adesso togliamo il filo in eccedenza va bene sì sì taglio vai taglia vicino vicino ecco qua questa è la tua prima legatura si si sei felice quanto sei felice tantissimo tantissimo metti un po vedi se sta a livello la canna metti sopra sta a livello la canna diciamo di no eh perché qua abbiamo un po a tapastelli lì abbiamo dei libri e questo è il tuo banco di lavoro eh sì saluto a tutti ciao 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 ciao